seconda eh fatto il meglio bravo dai vedi non ho mai provato troppo ciao 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 c'è l'apidone c'è l'apidone c'è l'apidone c'è l'apidone c'è l'apidone Sì, c'è poco il buco lì. Sì, puoi anche provare a prenderla un po' più in qua, arrivare un po' più in là e riusci di qua. Anche. Oh, tutte e due, non esagerate però. Dai, due salite tranquille. Vai, vai, vai. È la prima volta che vanno in moto. No, questo qui con la giacca rossa mi sembra che sia meno in gamba rispetto a tolale. Siamo a fare due salite normali, senza... Ma anche qua, senza tronche e senza pietre. Ma voi fate cose da pro qua? No. Che consiglio? No. Ma io non ho fatto il sasso che ho fatto loro, l'ho preso da parte. Sì, sì, facciamole senza sassi, senza tronche. No, no, qualche cosa ma... Facciamo un po' di salite... Un po' di riscaldamento, un guidato di riscaldamento. Volentieri. E poi dopo... Volentieri. Sì, vabbè, c'è il quarto... Già il carro? No. Emanuele. 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 Un po' di guidato di riscaldamento e poi vediamo qua che sassetto. Ho fatto rifare le sospensionità molto tecniche. Emanuele. Vorrei vedere come si comportava su... Lasciugeli. Un ostacoletto. Sì. Ho iniziato da tre mesi a coletticare. Ah, ecco. Allora meglio che fai il guidato. Sì. Emanuele. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.